Centro estetico Monia, per essere bella. Yeppa abbigliamento! Al posto giusto c'è più gusto! www.moranoleggi.com Elettrotaro Fornovo, televisori, elettrodomestici e tanto altro. Walfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. www.abiglobalservice.com Buonasera e ben ritrovati per questa nuova edizione di TG Parmese, la prima peraltro di questo nuovo mese di dicembre. Partiamo subito con due brevi notizie di cronaca che riguardano rispettivamente un'operazione di controllo e sicurezza alimentare e il lieto fine, se così si può definire, della rapina ad una lavanderia effettuata pochi giorni fa a Felino. Guardiamo insieme. I carabinieri della stazione di Sala Baganza hanno individuato e denunciato il responsabile del furto avvenuto a settembre presso la lavanderia Gettoni di Felino. Nell'occasione il ladro, introdottosi nottetempo nei locali dell'esercizio commerciale utilizzando un arnese da scasso, aveva forzato alcuni distributori automatici allontanandosi con circa 200 euro. I militari salesi avevano immediatamente acquisito le immagini dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto e grazie alla conoscenza dei soggetti presenti sul territorio e a un minuzioso lavoro di comparazione di immagini e foto sono riusciti a risalire al responsabile, un cinquantenne già gravato da diversi precedenti. Nel corso di servizi di controllo dei carabinieri all'esegnano dei bagni, nell'ambito della produzione e commercio di alimentari, è stato individuato un prosciuttificio dove, a seguito dell'ispezione nell'area di disosso e lavorazione dei prosciutti crudi, è stata riscontrata una partita di prodotti con evidenti segni di alterazione, in quanto invasa da larve e parassiti. Con il supporto del veterinario ufficiale dell'azienda USL di Parma, i militari hanno proceduto al blocco ufficiale sanitario di tutta la partita, quantificata in oltre 8.600 prosciutti crudi per un peso di oltre 80.000 kg. I prodotti ritenuti non idonei al consumo umano saranno distrutti con la sorveglianza dell'autorità sanitaria. Venerdì 26 novembre si è riunito il Consiglio Comunale di Collecchio, dove peraltro sono state presentate anche, come ricorderete, le dimissioni dell'assessore Elena Levati. In quell'occasione, vista l'appena trascorsa giornata di lotta contro la violenza sulle donne, l'assessore Costanza Guerci ha fatto il punto della situazione in questo senso nel nostro territorio, dall'inizio dell'anno fino ad oggi. E c'è ancora tanto da fare, ascoltiamo le sue parole in questo servizio di Cesare Groppi. Grazie Presidente, volevo solo approfittare della triste ricorrenza che c'è stata ieri per magari farvi sapere alcuni dati che sono stati raccolti grazie all'aiuto dell'azienda Pene Montana Sociale in merito appunto alla violenza sulle donne, dall'inizio dell'anno, quindi in questi dieci mesi. Allora, per quanto riguarda il Comando Provinciale di Parma dei Carabinieri, si parla di 160 casi sull'intera provincia di reati e maltrattamento nei confronti di donne. Per il centro invece antiviolenza gli interventi sono stati 289, di cui 225 sono nuovi casi, cioè magari appunto 289 erano la totalità di donne già seguite in precedenza, se ne sono aggiunte 225. Delle donne di violenza per cui si è dovuto procedere ad una collocazione fuori dal contesto familiare sono 21, che sono state collocate in case di rifugio, mentre 24 sono state inserite in residence per appunto la necessità di distanziamento dei nuclei, rispetto anche al contrasto alla diffusione del Covid. Per quanto riguarda invece la nostra azienda, la Pene Montana Sociale, ci sono state 9 donne residenti nei comuni appunto dell'Unione, per cui il servizio sociale ha predisposto progetti di sostegno a seguito del verificarsi di situazioni di violenza e maltrattamento contro di loro. Sono 8 invece le situazioni di donne con anche figli minori che sono state accolte nelle case per donne, per aiutarle appunto nell'uscita dei progetti, con progetti per portarle fuori dalla violenza. La Pene Montana si continua comunque a impegnarsi per il contrasto a questo fenomeno, come forse già saprete è nominata un'assistente sociale ad hoc diciamo per il tema che è Maria Antonia Moglia e si occupa appunto del partecipare a quelli che sono i progetti provinciali sull'ambito. Ovviamente non si fa mai abbastanza, è un fenomeno che non accenna a diminuire, ci tenevo comunque a farvi sapere questi dati perché sicuramente dobbiamo interrogarci tutti su cosa possiamo continuare a fare per cercare di fare qualcosa appunto. Sempre in tema di lotta contro la violenza sulle donne, una bella notizia che riguarda il comune di Traversetolo, guardiamola insieme. La casa di accoglienza femminile di Traversetolo, rifugio sicuro per le donne vittime di violenza e i loro bambini, d'ora in poi sarà più confortevole grazie a Caritas, carrello solidale e alla generosità dei cittadini. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l'associazione ha infatti donato la struttura di proprietà del comune di Traversetolo e gestita da Piedemontana Sociale attraverso la cooperativa Gruppo Cooperativo Colser Aurora Domus, un'asciugatrice acquistata con le offerte raccolte durante la messa di San Martino. Ci spostiamo ora a Fornovo, dove durante l'ultimo consiglio comunale, dopo l'intervento dell'assessore Cecilia Salterini e Teresa Gardelli del Gruppo Fornovo Città Futura, è intervenuta con preoccupazione sulla situazione sanitaria alla casa di riposo Renato Vasini di Via Nazionale, naturalmente di Fornovo, la sindaca Michela Zanetti, dopo un recente focolaio di Covid-19 che ha non solo coinvolto i pazienti, ma anche alcuni addetti ai lavori con decessi per Covid tra gli ospiti della casa. Ascoltiamo le sue parole in questo servizio di Cesare Groppi. Noi abbiamo avuto un incremento nei numeri dovuto appunto a questa situazione legata alla casa protetta, però generalmente c'è un piccolo incremento. La raccomandazione che è stata fatta dall'AS durante l'incontro settimanale, anche nell'ultimo, è quella di riprendere con maggiore convinzione tutte le buone regole riguardanti l'utilizzo di mascherine e forse insomma anch'io per prima stasera non ho la FFP2, forse sarebbe meglio passare a qualcosa di un po' più performante dal punto di vista della protezione e naturalmente l'igiene delle mani e generalmente dei luoghi di comunità. A tutto questo si sommano altre difficoltà relative a quelle che sono le influenze stagionali che iniziano a mandare un po' in stress i sistemi di comunità, soprattutto le scuole che insomma al primo sintomo isolano il bimbo e c'è tutta una filiera che si attiva con magari un po' di spavento, poi magari è semplicemente un'influenza. Quindi per il futuro prossimo penso che dovremmo ritornare ad essere molto più attenti a rispettare le norme igieniche, non dico come l'anno scorso, gennaio-febbraio, ma più o meno. Io sono molto preoccupata perché i segnali non sono assolutamente tranquillizzanti in questo momento e forse l'idea di essersi vaccinati ci ha fatto sentire un po' più sicuri. Penso che si debba comunque mantenere un'allerta molto molto alta, perché? E poi naturalmente tutta la questione riguardante i non vaccinati che comunque costituisce un elemento sempre di grande attenzione. Io ho visto sulla Casa Protetta un grandissimo sforzo da parte di ASL sicuramente che ha monitorato e continua a monitorare in modo molto puntuale la struttura e gli ospiti, gli operatori. E' un grande sforzo da parte di chi ci lavora per essere il più possibile non solo a disposizione ma anche efficace in tutto quello che è un ripensamento dell'organizzazione della struttura, perché l'isolamento dei pazienti positivi ha richiesto veramente un campo di logistica e di procedure veramente molto importante dal punto di vista dello sforzo organizzativo ma anche della fatica da parte degli operatori ai quali sicuramente va tutta la nostra riconoscenza. Si sono malati anche loro, quindi sono comunque anche loro in difficoltà. Chi è rimasto in servizio ha dato prove, in ultima dare prova di grandissima dedizione al lavoro e di un grandissimo senso civico. Restiamo in tema e parliamo quindi ora della situazione Covid-19 facendo riferimento non ai contagi ma all'attuale rapporto tra vaccinati e non vaccinati da quando si sono aperte le vaccinazioni ad oggi a cura di Giuliano Capece. Il maggior problema che genera il Covid è l'intasamento degli ospedali per questo ci sono stati i lockdown e si cerca di limitare il più possibile il contagio. più che i morti causati dal virus quindi il problema è poter continuare a salvare vite umane delle persone che non hanno il virus perché se ovviamente gli ospedali sono intasati non si possono più fare operazioni, non si possono curare persone che hanno avuto un incidente, quello che hanno avuto un infarto, un ictus piuttosto che tutte le altre patologie normali tra virgolette. Perché? Perché se noi pensiamo che nella fase iniziale del contagio da coronavirus il 10% delle persone contagiate andava in ospedale e il 3% morire quindi probabilmente andava anche in rianimazione vuol dire che dei 400 circa 1000 abitanti parmigiani circa 40.000 persone sarebbero andate in ospedale e ovviamente i posti siamo ben lontano da averli ma soprattutto sarebbero serviti 12.000 posti in rianimazione e anche su questo le disponibilità sono di alcune decine di unità. Per questo si è deciso di fare il lockdown, per questo si è deciso di puntare sul green pass, per questo si è deciso di puntare sulle vaccinazioni. Si è chiaro, i vaccini non eliminano il contagio ma lo riducono così come riducono l'ospedalizzazione, riducono l'occupazione di posti in terapia intensiva e anche i decessi. E dopo mesi di vaccinazione vediamo quanto hanno inciso queste vaccinazioni. Ebbene in Emilia Romagna i non vaccinati rischiano 11 volte in più di finire in terapia intensiva, 4 volte in mezzo in più di essere ricoverati e 2 volte in mezzo in più di infettarsi. Un mio piccolo intervento, una mia piccola opinione personale che vi prego di accogliere, un piccolo suggerimento, un piccolo appello. Al di là del vaccinato o non vaccinato, al di là delle proprie decisioni personali, comunque sta di fatto che ognuno di noi è responsabile della propria salute e della salute altrui. Chi non è vaccinato deve comunque fare in modo di non mettere in condizioni critiche o comunque di pericolo o comunque instabili chi ha vicino. Chi è vaccinato ha il dovere morale comunque di non sentirsi libero nel modo più assoluto, ma comunque di continuare ad usare gli stessi accorgimenti che ha usato fino al momento del vaccino. Perché troppo spesso si incorre in episodi sgradevoli sotto questo punto di vista, dove con la scusa dell'essere vaccinato si dimenticano le regole di buona convivenza e di buona socializzazione e quindi le regole di sicurezza sanitaria non vanno mai dimenticate. Così come del resto non bisogna approfittare del vaccino o non vaccino per dare credito o dare adito o comunque dare vita a forme di discriminazione da una parte o dall'altra. Cerchiamo di essere uniti in questa lotta che comunque stiamo combattendo con armi molto forti e probabilmente riusciremo anche a vincere molto prima del previsto. Una mia piccola opinione personale che vi chiedo di accogliere con il cuore. Si è tenuta ieri sera alla sala del Circolo dei Tre Torri di Medesano la presentazione del libro del Presidente di Regione Stefano Bonaccini Il Paese che vogliamo, con la presenza naturalmente dello stesso Stefano Bonaccini e del Sindaco di Medesano Michele Giovannelli. Eccone un estratto a cura di Giuliano Capece. Un grande successo nella serata di ieri al Circolo Tre Torri di Medesano la presentazione del libro del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini Il Paese che vogliamo. Alla presenza anche del Sindaco di Medesano erano presenti anche centinaia di cittadini del Paese ma non solo. Sala, una sala molto vasta, completamente piena nei posti sedere ma erano anche tante le persone in piedi. Tanti gli argomenti toccati a partire dai piccoli comuni dell'Appennino in cui si cerca di far capire quanto sia importante anche una parità di opportunità tra i grandi centri della Regione e i piccolissimi centri del nostro territorio. Noi abbiamo messo a disposizione nel totale della legislatura 42 milioni di euro per gli impianti sportivi. Noi abbiamo finanziato 161 impianti sportivi di 161 comuni. Come mai uno? Perché prendemmo la decisione, che da dirla nei conveni si prendono gli applausi, poi andare a spiegare al Sindaco di Parma che il Sindaco di Bore potrebbe avere accesso a un impianto sportivo finanziato esattamente come a Parma, nonostante nel capoluogo siano ormai superati 200 mila abitanti e a Bore non arrivano 700, ma l'abbiamo fatto perché volevamo soprattutto ai comuni medio-piccoli garantire investimenti che altrimenti difficilmente ne avrebbero avuto accesso. Al tema della pandemia che ha profondamente toccato anche il territorio di Medesano. Più che altro nei mesi di marzo, aprile, maggio del 2020 abbiamo registrato numerosi dicessi, complessivamente ad oggi sono 48, ma era davvero molto complicato riuscire a lavorare quotidianamente al servizio della comunità perché oltre alla situazione ordinaria avevamo a che fare con una straordinarietà che nessuno era pronto per affrontare, nessuno conosceva e quindi la paura effettivamente c'era ed era forte e tangibile in mezzo a noi. Poi per fortuna noi a Medesano abbiamo la forza di emergere e di affrontare le cose di petto sempre a testa alta e credo che la comunità si sia stretta attorno a quelle realtà che maggiormente soffrivano che erano le realtà residenziali per anziani, ad esempio la casa portata Patrioli dove purtroppo tante persone hanno perso la vita, piuttosto che il centro di urno qui la struttura semiaresidenziale è dove probabilmente è partita tutta la pandemia qui a Medesano quindi abbiamo davvero fatto fatica ma insieme ne siamo usciti più forti credo perché poi le testimonianze di vicinanza della cittadinanza sono state tantissime soprattutto nei confronti del mondo del comitato locale di Croce Rossa vedo qui il presidente Calì e il vicepresidente Minotti che vorrei ringraziare per il lavoro che con i loro volontari hanno fatto straordinario al servizio delle nostre comunità perché poi ad un certo punto loro andavano dal Po fino alla Cisa a fare servizi perché quando era piena emergenza, per fortuna noi qua abbiamo tanti mezzi messi a disposizione anche di tutta la provincia di Parma e loro non si sono mai sottratti né per Medesano né per i territori di tutta la provincia a fare il loro dovere che era fatto con il cuore perché poi avevano dovuto mettere, come dice sempre Gabriele, in panchina gli over 65 perché in quel momento non potevano essere a disposizione per ovvi motivi e quindi i giovani, i volontari, quelli più giovani di età si erano messi davvero in gioco e hanno fatto di tutto per soccorrere le persone che avevano bisogno Ed ora qualche istante di pubblicità ci ritroveremo subito dopo con la rubrica del benessere parleremo di udito, parleremo di altre patologie che possono riguardare anche i nostri bambini e parleremo anche dei primi appuntamenti che cominciano a defilarsi in prossimità delle prossime scusate gioco di parole prossimi appuntamenti festivi delle nostre festività di questo mese a fra poco quindi subito dopo la nostra pubblicità Centro Estetico Monia per essere bella ogni giorno di più varanno me le gare Yeppa! Si sta avvicinando il Natale se stai pensando ai regali Yeppa abbigliamento lo trovi a Varsi e a Barbie Cerchi un ristorante e pizzeria in Valceno? Al posto giusto c'è più gusto ci trovi in Piazza Monumento a Varsi Morano Leggi via Grandi 3 a Fornovo Movimento terra, piattaforme aeree, autocarri apparecchi di sollevamento da oltre 20 anni al servizio dei clienti 24 ore su 24 con qualità, serietà e professionalità www.moranoleggi.com sgombero neve, escavazioni, verde Morano Leggi via Grandi 3 a Fornovo Taro Valfer elettromeccanica, automazione e impianti elettrici a Palma, l'Emiliano di Collecchio la strada privata del commercio 13 oltre 30 anni di attività nel settore dell'impiantistica e automazione industriale progettazione e costruzione di linee con gli standard tecnologici e di sicurezza più aggiornati in Italia e nel mondo con personale altamente qualificato Valfer, all'Emiliano di Collecchio strada privata del commercio 13 AB Global Service a Madregolo di Collecchio azienda giovane e dinamica al passo con le nuove tecnologie e attenta al rispetto delle tradizioni vasta gamma di servizi dalla manutenzione del verde asfaltatura, manutenzioni stradali servizio di pronto intervento movimento terra, demolizioni lavori edili, sgombero neve e lavori agricoli AB Global Service via Madonina 7 a Madregolo di Collecchio Il Ghiotto da 40 anni nella ristorazione a Viazzano e a Fornovo cibi freschi e genuini soluzioni personali per scuole e somministrazioni in azienda pasti di altissima qualità con prezzi da mensa Il Ghiotto quartiere artigianale a Fornovo Taro in via di Vittorio 48 e a Viazzano ai piani di riva 8 Elettrotaro Fornovo un negozio moderno di televisori frigoriferi elettrodomestici e tanto altro ottimi prezzi a due passi da te anche dopo la vendita se serve aiuto veniamo anche a casa tua ci trovi in via nazionale 127 a Fornovo Taro telefono 0525 2590 Ben ritrovati gentili telespettatori ed ora come già annunciato l'angolo del benessere a cura di Morena Canali parliamo di udito L'udito è una sensazione specifica relativa alla percezione dei suoni e dei rumori avendo per organo di recezione gli stimoli dell'orecchio ed è uno dei cinque sensi è grazie all'udito che possiamo partecipare in modo completo a tutto ciò che accade intorno a noi e condividere le emozioni più belle con la famiglia e gli amici abbiamo bisogno di ascoltare ed essere ascoltati il benessere dell'apparato uditivo dunque va salvaguardato capire come funziona e come intervenire in caso di calo dell'udito è di grande aiuto per mantenerlo in salute l'apparato uditivo è composto da tre parti l'orecchio esterno medio e interno l'orecchio esterno comprende il padiglione auricolare la parte più visibile ed il condotto uditivo esterno il medio è composto dalla membrana timpanica e dalla catena dei tre ossicini martello, incudine e staffa gli ossicini amplificano i suoni in arrivo e li trasmettono all'orecchio interno che attraverso il movimento delle ciglia convertono le onde sonore in segnali bioelettrici che attraverso il nervo acustico giungono il cervello dove nasce la percezione uditiva vera e propria l'esposizione prolungata e frequente ai rumori rappresenta un pericolo per l'udito l'intensità dei suoni potrebbe danneggiare le delicate strutture dell'orecchio interno per tale ragione è fondamentale prendersene cura del proprio udito facendo prevenzione tramite l'esame audiometrico non invasivo è possibile definire i livelli di soglia uditiva e conseguentemente i diversi tipi di perdita uditiva la comunicazione parte non dalla bocca che parla ma dall'orecchio che ascolta prendiamocene cura ringraziamo naturalmente Morena Canali per questo contributo sulla nostra salute sul nostro benessere molto interessante ringraziamo anche Cesare Gropi per aver realizzato questo montato questo servizio noi adesso invece vi proponiamo già qualche idea su questo che è il mese delle feste e quindi delle occasioni di festa di gioco e non solo guardiamo insieme a Collecchio il 3 e 4 dicembre 2021 si terrà la manifestazione le chiavi dell'inclusione progetti per Collecchio in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità venerdì 3 dicembre alle ore 9.30 in via Berlinguer numero 2 nuova stanza sensoriale al centro di urno uno spazio attrezzato che propone stimoli per la riduzione e il contrasto dei disturbi comportamentali da Alzheimer e demenze grazie al 5 per 1000 dell'IRPF versato al comune di Collecchio da parte dei suoi contribuenti a favore di attività sociali venerdì 3 dicembre alle ore 17 in via San Prospero al 13 casa I Prati in solito bar luogo di inclusione e di supporto all'autonomia che offre un'opportunità di inserimento nel mondo del lavoro alle persone con disabilità grazie al contributo di Fondazione Cariparma e con cofinanziamento nell'ambito del piano di zona del distretto sud-est sabato 4 dicembre alle ore 9.30 in via San Prospero al 12 nuova stanza multisensoriale alla scuola Galaverna uno spazio attrezzato e stimolante che offre l'opportunità dell'esplorazione dei cinque sensi dedicato all'inclusione di tutti i bambini e i ragazzi dell'istituto comprensivo Guatelli grazie al contributo di B per Banca Chiesi SPA Comune di Collecchio Kral Parmalat Fereoli Gino e Figlio Tecnogas e altri soggetti privati sabato 4 dicembre alle ore 11 ultimo appuntamento all'area verde tra Viale Saragata e Via Bruxelles Parco Giochi Inclusivo un progetto socio-inclusivo con giochi ed attrezzature per un percorso educativo fruibile da chiunque senza distinzioni di età o di capacità motorie grazie al contributo di azienda agricola casearia Montecoppe Comune di Collecchio Fondazione Monte Parma e Parmalat SPA società del gruppo Lactalis Ciao bimbi da Nicoletta e Costanza ma ormai ci conosciamo anche quest'anno in occasione del piccolo festival dell'inverno vi terremo compagnia ogni giovedì di dicembre con i nostri racconti per chi potrà venire vi aspettiamo in biblioteca alle ore 16 ma non lasceremo solo nessuno perché le nostre letture saranno anche online sempre alle ore 16 sulla nostra pagina Facebook vi aspettiamo a presto l'edizione di TG Parmense termina qui vi ringraziamo per essere stati con noi vi ricordiamo sempre la possibilità di rivedere in replica anche domani sera questa edizione quindi le nostre notizie oppure quando lo vorrete potrete sempre ripescare le nostre notizie le nostre telegiornali anche sulle piattaforme social dedicate proprio a TG Parmense sia YouTube che Facebook diversamente vi aspettiamo per la prossima edizione di TG Parmense venerdì sempre qui su Videotaro RTA Buona serata Buona serata Buona serata